Un piccolo capolavoro di architettura moderna. Il nuovo polo scolastico di Locri denominato Virgilio è stato inserito da Lega Ambiente nella top 10 degli istituti migliori d'Italia in termini di ecosostenibilità e risparmio energetico. La struttura, interamente in legno, è stata realizzata secondo tecniche innovative antisismiche in soli 200 giorni, con i migliori standard di efficientamento energetico. L'edificio, in grado di ospitare ben 225 alunni in nove sezioni, è basato su soluzioni atte a limitare i consumi di energia, ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili. Trovarsi la nostra scuola, la scuola Virgilio, il plesso scolastico Virgilio, tra le scuole d'eccellenza, penso che faccia piacere e onore e dia lustro alla città di Locri. È una scuola ritenuta tra le più all'avanguardia, tra le 10 scuole più importanti d'Italia per la sua ecosostenibilità e per la sua efficienza. Speriamo di riuscire ad operare in tal senso anche con le altre strutture scolastiche. Per ora siamo felici del risultato raggiunto. Ilario Balì per la CINUS24